L'occasione è la presentazione del libro che voi vedete qui la copertina curata da Fulvio di mezzo. È un libro costruito soprattutto attraverso delle interviste ad alcuni importanti interlocutori dell'arte contemporanea attuale. L'arte italiana del terzo millennio è una raccolta di quasi 40 interviste realizzate in un periodo molto breve che va principalmente tra maggio e luglio del 2012. Mi fa particolarmente piacere essere qui perché come target ideale di questo volume ho immaginato proprio gli studenti queste lezioni. Musica 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 Musica